Siamo giunti alla 22esima edizione della settimana della lingua italiana del mondo che la Dante con i misteri esteri e altri enti celebra in Italia e all'estero. Il tema di quest'anno è l'italiano ai giovani, un tema molto attuale, molto sentito da tutti noi ossia qual è il linguaggio che appartiene alle generazioni che noi stiamo vedendo usare social, Instagram, TikTok, Facebook. Ecco, è cambiato qualcosa? Un modo di ragionare, di comunicare diverso? Forse questa sarà l'occasione per tutti noi di affrontarlo questo tema. Lo affrontiamo appunto con i comitati italiani che ringrazio per la straordinaria fattività con cui collaborano con la Sede Centrale e ringrazio anche tutti i comitati esteri ai quali giunge il nostro più caro saluto per tutte le attività che stanno infaticabilmente realizzando in questi anni. Ecco, detto ciò, attendiamo i risultati di questa settimana e i comunicati, le notizie che ci vorrete mandare qui in Sede Centrale che rimanderemo a nostra volta sulla piattaforma Dante Global e con l'augurio di buon lavoro mi auguro che anche questa settimana possa portare un contributo di idee concreto allo sviluppo della lingua e della cultura italiana nel mondo da parte della Dante Alighieri.